Ecco, poi so anche che hai avuto una vicenda particolare con Roberta Gemma, un'altra delle opere d'arte mobili. Uuuuh, non ne parliamo avvocato. C'ho una ferita nel cuore, c'ho una ferita nel cuore con lei. Ho dedicato un video, gli ho dedicato un video, gli ho detto, gli ho detto, come fai a rifiutare il mio uccello? Come fai a rifiutare il mio uccello? Monella! Monella! Monella, sei una monella! Sei una monella, te ne sei andata a San Giorgio Ionico, a Taranto perché volevi una mia foto, ma intanto tu non me la volevi dare. Sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo che io ti do la foto. Tu non mi hai dato la vagina e io con sto cazzo che ti do la foto. Avvocato.